Buon lavoro a tutte! Sì, buon lavoro nella settimana della festa della donna. La prima parola della settimana è merito. Scelgo i collaboratori sulla base del merito. È quello che ho imparato a fare all'estero ed è quello su cui vorrei essere giudicata. A dirlo è Giuseppina di Foggia, Sio di Terna. Merito dunque sempre in tutte le aziende. La seconda parola chiave della settimana è Team Rosa. Ho vinto con un team di tutte donne. La nostra forza è l'amore che mettiamo nelle cose. Lo ha detto Angelina Mango, vincitrice del festival di Sanremo. Il riferimento è alla sua etichetta discografica indipendente, la Tarma Records, portata avanti da Marta Donà, nipote di Adriano Celentano, assieme a Silvia Gianatti e Francesca Zampieri. Tutte under 40. Bellissimo esempio di collaborazione di successo fra professioniste. La terza e ultima parola chiave della settimana è Felicità, parola nel dizionario della lingua italiana di genere femminile. Ne parla la psicologa del lavoro Silvia Gazzotti che suggerisce il piano della felicità professionale a medio termine. Silvia dice, lasciamo correre i desideri senza preoccuparci delle difficoltà di raggiungerli. Chiediamoci semplicemente, tra cinque anni in questo periodo, cosa voglio essere riuscita a fare? La risposta deve essere concreta, dettagliata e positiva. Insomma, la formula non deve essere solo voglio andare via da, ma voglio andare verso. Tre suggerimenti della psicologa del lavoro. Anzitutto individuare un obiettivo ambizioso ma raggiungibile, poi identificare delle tappe intermedie e infine fare un tagliando periodico di dove stiamo andando. Dunque, buon lavoro a tutte, buona festa della donna!